Buongiorno Davido, benvenuti all'ultima puntata della settimana di questo podcast che vi dà ogni qualche giorno delle news del mondo tech, soprattutto del mondo informatico, tecnologico, coding, roba cloud. A proposito di roba cloud, peraltro, un buon compleanno a Kubernetes, perché ieri, mi pare proprio ieri, sono stati i 10 anni di Kubernetes. Ecco perché mi sono messo questa maglietta con la piovra, un'immagine spesso usata per descrivere Kubernetes, la piovra con i suoi molti tentacoli tiene in piedi un'infrastruttura web con vari nodi, container, bla bla. Dovremmo forse fare un video un pochino più celebrativo di Kubernetes e spiegare un po' come è nata la sua storia, come funziona, ma quando avrò tempo, magari lo faremo. Tra l'altro, parlando di traguardi, proprio stamattina ho raggiunto i 1700 iscritti sul canale YouTube di questo podcast, che comunque per un canale come questo sono pochi. Sono pochi! Perché sono così pochi? Deve essere di più! Questa qualità incredibile che portiamo, ci sono canali inutili che hanno 193.000 iscritti. Come mai qua siamo così pochi? Bisogna andare a divulgare per far crescere questi numeri, bisogna arrivare a cifre pazzesche, bisogna distruggere tutto perché bisogna arrivare allo stato di Rockstar che mi permetterebbe di firmare le magliette ad altezza reggiseno delle ragazze. Come è successo a Jensen Wang, il CEO di NVIDIA? Posso vedere le immagini di Jensen Wang, eccolo qua, CEO di NVIDIA, che fuori dal Computex, mentre c'è il Computex, eccolo qua, fa il suo autografo sulla maglietta di una signorina, di una ragazza, ha sopra la tetta, praticamente, come se fosse Mick Jagger, eccolo lì, che firma, fa la sua firma, lui naturalmente è molto abituato a firmare pezzi di carta, ma eccola qua, vedete? Questa è l'immagine definitiva di Jensen Wang con il suo ormai classico outfit, con giacca di pelle, non so se vuole ricordare Terminator, non lo so. Comunque, tra l'altro, mi fa molto ridere la faccia di questo tizio dietro con il cappellino degli Yankees, una faccia molto, un po' schifata, no? Non si capisce bene perché, se per l'atto di Jensen Wang o per la panoramica sulla ragazza, comunque, qua vedete un'altra immagine, ecco, della ragazza con la firma, che esibisce la firma, l'autografo di Jensen Wang, CEO di NVIDIA, sulla sua maglietta, non lo so, come una rockstar. Adesso cosa ci farà con questa maglietta? Non lo sappiamo. Però, insomma, tutti noi nel tech aspiriamo a diventare rockstar, alla fine, ad essere fermati fuori da una conferenza con ragazze che ci chiedono di firmargli le tette. Questo è la massima aspirazione di qualunque di noi che lavora nell'IT. Vabbè, a parte queste cazzate, ho delle notizie oggi a proposito di IA, perché naturalmente, questo ormai lo sappiamo, è un mercato che si concentra al 90% sull'IA e per il 10% lascia spazio a poche altre cose. Ho due robe sulle IA, una riguarda Raspberry Pi, quindi interesserà magari molti di voi nella prima parte. Nella seconda parte una cosa carina, frizzante, vi terrà preoccupati probabilmente per solo un pomeriggio, che sono le chat private di DuckDuckGo. Poi ve lo faccio vedere, andiamo. Allora parliamo di Raspberry Pi, perché l'ultimo prodotto che sta lanciando Raspberry Pi è un kit che si chiama Raspberry Pi AI Kit, composto da una board M.2 Hat, questo è il, credo, il form factor. Adesso io non sono molto esperto di Raspberry Pi, comunque credo che sia proprio il form factor di queste board, no, M.2 Hat. E c'è un modulo AI prodotto da Hilo, o Halo, che insomma è una compagnia, un'azienda che produce dei chip AI low power, quindi che consumano poca energia, per essere utilizzati in device edge, non nei data center. Quindi questa è una versione, questo chip in particolare è montato su questo Raspberry Pi, che è un modulo, non è un'intera CPU, praticamente è un NPU, è un modulo con un Neuro Processing Unit. È una versione light del chip AI low 8, si chiama AI low 8 L, e questo è quello proprio che sarà incluso nel kit. Raspberry Pi dice che questo modulo è capace di 13 Tera Operation Per Second, che sono i TOPS, che è la metrica usata dai produttori di NPU per descrivere appunto la sua velocità. Per fare una comparazione, le NPU di Intel, Qualcomm e AMD più o meno vanno tra i 40 e i 50 TOPS, quindi parecchio superiori, però a differenza di queste NPU, questa in particolare costa molto meno, perché stai sui 70 dollari, e consuma molto meno. Dice Naush Patuk, che è di Raspberry, dice che installato su un Raspberry Pi 5, quello con cui deve essere abbinato, questo kit ti permetterà di costruire applicazioni complesse di AI Vision, di farle funzionare in real time, con bassa latenza e bassi requisiti energetici. È una neural network inference, quindi deve funzionare con pre-trained models, ed è particolarmente indicata per i task di visual build, quindi per il riconoscimento di immagini. E quindi la sua ragion d'essere sarebbe quella di essere utilizzato con delle videocamere, con i moduli videocamere di Raspberry Pi, per riconoscere immagini, poi effettuare azioni in base a quello che vedi. Halo ha un nuovo community forum, quindi tutti gli entusiast di Raspberry Pi, e tutti quelli che vogliono sviluppare qualcosa con questi moduli, possono andare appunto a parlare su questo forum. Questo AI Kit attualmente supporta solamente come sistema operativo Raspberry Pi OS Bookworm, quindi a momento questo è l'unico sistema operativo che lo supporta, però si immagina che arriveranno altre distribuzioni appunto in grado di supportare queste caratteristiche. Ed ecco qui la pagina dello store di Raspberry Pi con l'AI Kit, se siete interessati, ci sono un po' di immaginette, l'overview con tutte le specifiche. Ora vado a prendere qualcosa da un altro blog post su XFOS, che parla proprio di Raspberry Pi, talvolta sia un ingrandimento di questo modulo. Allora, questo come dicevamo non è un modulo stand-alone, cioè voi avete comunque bisogno di abbinarlo al Raspberry Pi 5. Tutte le caratteristiche tecniche, più o meno le abbiamo già dette, modulo con form factor M2, M.2, 13 tops, e la temperatura, anche questo è interessante, la temperatura va tra i 40 gradi e gli 85, quindi in realtà è abbastanza bassa, quindi anche non solo in consumi bassi, ma anche la temperatura che lo potrebbe rendere molto versatile da installare in varie postazioni. E come abbiamo detto è ideale per AI Vision, Object Detection, Landmarking, eccetera. E infatti c'è un'integrazione completa con i subsystem software di Raspberry Pi Image, quindi è proprio adatto per lavorare con le immagini in tempo reale, ha il supporto alle videocamere first party e third party. Vi ricordo quindi che potete comprarlo a 70 dollari, oltre naturalmente alla base di Raspberry Pi 5, in questo box che acquistate trovate il modulo ILO AI, l'AT+, quindi la board M2-AT+, un thermal pad, un kit per montare questo modulo e un header da 16 mm per collegarli. E tra l'altro ILO ha creato un Model Zoo, che è praticamente un contenitore di vari pre-trained neural network che sono già pronti per essere utilizzati con le AI Kit. E sul blog di Raspberry Pi trovate tutte le informazioni più tecniche e anche un Getting Started, praticamente per reinstallare questo modulo, sia a livello di hardware, quindi per connettere i due, che proprio a livello di software. Quindi cosa installare, come fare il primo setup, poi come far girare i primi modelli di neural network con questo modulo AI. Quindi infine, come si dice di registrare, questo non è naturalmente un veloce acceleratore per alte prestazioni di AI, però è un NPU che sta a 70 dollari più il costo di Raspberry Pi 5. Se lo confrontiamo con gli altri NPU, insomma, il prezzo è notevolmente più basso, oltre naturalmente a un basso consumo energetico. Per l'altro è molto interessante la scelta del design modulare, cioè quello di costruire un acceleratore separato per i Raspberry Pi. Questa è proprio una scelta di design. L'ha detto anche, l'ha sottolineato anche il CEO di Raspberry Pi, Eben Apton. La scelta è deliberata come poi per tutta l'architettura di Raspberry Pi 5. Il CEO ha detto che aggiungere un NPU sulla bordi di Raspberry Pi 5 l'avrebbe reso inutilmente e costoso, oltre naturalmente ad alzare i consumi. Quindi l'obiettivo è tenere i costi bassi, rendere un design modulare, perché così tutti gli utenti possano andare a scegliere i pezzi che vogliono, è proprio un obiettivo dell'azienda. Peraltro è stato poi chiesto da The Register se questa sarà una partnership di lungo periodo tra Raspberry Pi e Hilo. E il CEO ha risposto che sarebbe contrariato se questa fosse l'ultima collaborazione tra Raspberry Pi e Hilo. Peraltro, ricorda in conclusione di questo articolo, Raspberry Pi sarà quotata in borsa questo mese e sta cercando una valutazione intorno ai 690 milioni di dollari. E nella seconda news si parla sempre di AI, ma si parla di DuckDuckGo, che credo che ormai conoscerete tutti, il motore di ricerca, ma poi anche browser, insomma la suite di tool, incentrata sul motore di ricerca, però incentrata sulla privacy, che proprio mette la privacy dell'utente al centro di tutto questa compagnia. Ebbene, DuckDuckGo ha lanciato delle AI chat private che sono Powered by GPT 3.5 Turbo, Cloud3 Haiku, ma anche altre in realtà. Questa interfaccia ai modelli è totalmente anonima, quindi non dovete loggarvi sui modelli, non dovete dare nessuna informazione, come per tutto quello che fate su DuckDuckGo, peraltro, e le chat non saranno memorizzate e le aziende che ricevono le richieste dalle chat non vedranno i vostri dati, il vostro IP, perché tutto questo sarà schermato da DuckDuckGo. Le richieste che arriveranno ai server saranno tutte dall'IP di DuckDuckGo, quindi avrete un'ulteriore schermatura. Le chat potranno essere memorizzate temporaneamente, dice poi DuckDuckGo, appunto dai vendor, ma hanno un accordo per cui comunque alla scadenza dei 30 giorni le chat devono essere cancellate completamente. Come fa notare DuckDuckGo nella Privacy Policy Page, tutti i metadati saranno cancellati, però naturalmente bisogna stare attenti a non mettere i propri dati personali nella chat, perché questi poi potrebbero essere usati per essere ricondurre la chat all'autore. Ecco, vi dicevo, in aggiunta a GPT 3.5 e Cloud, DuckDuckGo offre anche Lama 3 di Meta, il modello da 70 billions di parametri, e Mixedral 8x7b. Quindi potete accedere a DuckDuckGo AI Chat andando su Duck.AI oppure nella barra di ricerca DuckDuckGo fate il punto esclamativo AI, sapete che DuckDuckGo ha queste scorciatoie, come fate punto esclamativo G per andare su, per cercare su Google, vabbè, quindi questo punto esclamativo per andare proprio sulla chat AI. Ah, in conclusione vi ricordo anche che questa chat sarà gratuita, ma ha un limite giornaliero di messaggi che potete mandare, poi DuckDuckGo dice che questo potrebbe in futuro diventare un piano a pagamento per avere messaggi illimitati oppure altri modelli più potenti, eccetera, eccetera. Ricordo anche che DuckDuckGo ha lanciato già un altro prodotto con AI dentro, diciamo che si chiama DuckAssist, che insomma è incluso nel motore di ricerca e dà delle risposte in tempo reale proprio basate sull'AI. Tutte queste feature di AI possono essere disabilitate dai settings di DuckDuckGo. E quindi eccola qua, questa è la pagina del blog di DuckDuckGo con appunto tutte le spiegazioni che volete cercare su DuckDuckGo, cercatelo come DuckDuckGo AI Chat Anonymous Access to Popular AI Satbots. La frase più interessante che ho trovato è questa. Our mission, no ve la leggo in italiano perché se no magari qualcuno non ha voglia di stare a tradurre, la nostra missione è mostrare al mondo che proteggere la privacy online può essere facile. Bellissimo, meravigliosa questa frase. Noi pensiamo, crediamo, che le persone dovrebbero essere in grado di usare internet e altri tool digitali senza credere che devono sacrificare la propria privacy in questo processo. Quindi credo che sia un bel messaggio da dare anche se purtroppo dobbiamo fare questo appunto come sempre. Poi alla fine bisogna anche vedere qual è il valore che portano i tool agli utenti, non solo qual è la protezione della privacy che vediamo perché se avete un tool che protegge al 100 milioni di per cento la privacy però poi il tool è poco utile. Ecco, forse alla fine fate un fallback su tool che sono meno attenti alla privacy ma sono più utili. Esempio classico, il motore di ricerca DuckDuckGo in sé non è sempre insomma mega preciso, mega utile nel fornire risultati. A volte è necessario fare un fallback su Google che purtroppo è ancora quello che dà risultati migliori. Ma questa chat insomma, eccola qua, DuckDuckGo AI Chat. Vedete, accesso anonimo per chi sta guardando naturalmente. Faccio solo un test rapido per vedere. Vedete che possiamo fare iniziamo e scegliere un modello di chat. Vedete che vi dà GPT 3.5, Cloud3, Lama3 70b e MixTralotto per 7b. Proviamo Lama3 successivo. C'è la privacy policy che sicuramente leggerete tutta e dite sono d'accordo ecco e avete questa interfaccia alla chat. Potete chiedere qualcosa adesso il mio schermo è tagliato sotto quindi non vedete il vabbè però è il classico il classico prompt la classica UI delle chat quindi sto chattando con Lama3 che cosa vi posso chiedere? Non lo so. In tutto quello che sai sul podcast italiano Buongiorno da Edo Buongiorno da Edo è un podcast italiano molto popolare che si concentra sulla storia e la cultura del Giappone. Ecco alcune informazioni che ho raccolto su di esso. Il podcast è stato creato da Edoardo Rialti un giornalista e scrittore italiano appassionato di cultura giapponese. Il nome Buongiorno da Edo è un gioco di parole che richiama la città di Edo l'antico nome di Tokyo. Saluto Buongiorno italiano. Geniale Geniale Il podcast è andato nel 2018 ed allora ha raggiunto una grande probabilità in Italia ogni episodio tipo un giorno da Edo esplora un argomento diverso legato alla storia del Giappone. Ecco questo è il classico esempio dell'utilità di questi strumenti darvi risposte completamente inventate a caso quindi tra l'altro qua siamo sul Lama3 che è il modello più potente tra quelli disponibili quello con il più alto numero di parametri però non avendo accesso a internet non potendo fare rag quindi migliorare i propri risultati e semplicemente basandosi sui dati che ha senza sapere se sono giusti o no perché questo è il funzionamento intrinseco dei modelli di E.I. ecco queste chat vi danno risposte spesso completamente inventate e inutili quindi per cosa userete per cosa usereste delle chat di questo tipo di cui non potete fidarvi ecco che vi danno risposte di cui non potete fidarvi non lo so per ridere probabilmente per trovare anche nomi ecco nomi creativi per i vostri podcast se volete fare un podcast sulla cultura giapponese buongiorno da Edo effettivamente è una grande idea allora i due link che vi do per oggi il primo è un hardware in realtà è un computer un tablet insomma è un device che è una via di mezzo tra un tablet e un e-reader è un e-book reader perché effettivamente è un un tablet con uno schermo da 60 fps quindi un refresh rate insomma abbastanza alto molto più alto di quello di qualunque altro e-book reader quindi l'uso l'esperienza d'uso è molto più simile a un tablet però lo schermo è e-ink e quindi potete leggerci libri e poi c'è anche la penna che potete prendere appunti disegnare eccetera il sito vedete questo qua vi dà anche informazioni sul insomma sul software vedete che fa il confronto tra ipad e daylight computer quando siete all'aperto naturalmente gli schermi tradizionali non funzionano molto bene al sole mentre daylight computer sì ecco perché si chiama daylight computer geniale anche questo nome potete naturalmente prendere appunti con la pennina e il software è basato su android insomma vedete poi ci sono delle informazioni tecniche sul device che insomma è anche bellino da vedere usare vedete le performance ha uno schermo da 10.5 pollici con risoluzione 1600x1200 ha 8 giga di ram uno storage 128 giga la cpu è un mediatek helio g99 diciamo che come come caratteristiche tecniche potevano anche fare qualcosa di meglio probabilmente anche perché non so quanto costa questa roba costa 729 dollari insomma tra l'altro c'è anche una tasterina carina non so se è loro o è un modello che hanno messo così in questa immagine 729 dollari per il device puro in purezza insomma non sono manco pochi in realtà forse a livello di caratteristiche hardware si poteva fare qualcosa di più non ho visto recensioni per il momento ho solo visto questo link che comunque è qualcosa che vi condivido perché mi sembrava carino farlo e poi in ultimo per tutti voi coder out there andate a controllare questo blog post che si intitola popular git config options naturalmente tutti state usando git vero tutti sapete che cos'è e come si usa git al meglio però forse non conoscete alcune di queste opzioni di configurazione che potete mettere di default nel vostro git questo blog post di Julia Evans le racconta un po' le ne chiude un po' per esempio il settare pull.ff o pull.rebase true per fare in modo che ogni volta che fate git pull in realtà fate un rebase e non un git pull che poi potrebbe crearvi un commit message insomma git pull non va fatto mi raccomando va fatto un rebase ecco se voi fate git pull rebase in realtà ogni volta che fate pull state facendo un rebase che è la cosa giusta da fare questo potete metterlo come configurazione default qua ce ne sono tante altre ne pesca un altro a caso ha per esempio re 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 bellissimo re 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 sa per reuse recover resolution che praticamente ogni volta che fate una rebase lui naturalmente rebase deve cercare di controllare i conflitti per risolvere i conflitti e lui si ricorda come avete già risolto conflitti in passato in situazioni simili e se trova la stessa risoluzione la riapplica quindi non vi richiede di risolvere gli stessi conflitti insomma re 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 molto comodo meglio abilitarlo di default questa ed altre opzioni la trovate sul blog di Julia Evans popular git config options trovate il link come sempre nella descrizione di questo podcastone e ho finito qui grazie per avermi seguito vi auguro un buon weekend il mio sarà impegnatissimo perché domani sarò a hacking bow in mezzo a espertoni di cyber security quindi cercherò di fare insomma finta di saperne qualcosa anch'io avrò un mio talk dopo pranzo se qualcuno di voi è lì ci si becca lì altrimenti salutoni e ci vediamo la prossima settimana ciao